Impiantistica da sostituire e adeguare nell'arabolino dell'ospedale dell'Annunziata, con circa 6 milioni di euro ottenuti con i fondi PNRR, la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria ha dato il via libera con apposita determinazione per la progettazione definitiva esecutiva dei lavori di adeguamento e riqualificazione dell'ale in questione e ha stabilito l'indire la gara d'appalto per l'affidamento delle prestazioni mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa. Gli impianti saranno adeguati e sostituiti nei reparti di pediatria, ostetricia, ginecologia, blocco parto e operatorio. Con altra progettualità sarà battuta la lavecchia per dar vita alla centrale operativa territoriale che ha lo scopo di collegare la sanità ospedaliera con il territorio. Progettualità non mancano ma la sanità continua a viaggiare su due velocità, strutture moderne, super efficienti ma fortemente depauperate per la carenza di personale che arriva. Ai massimi storici se ne sono accorti nelle ultime ore anche politici, probabilmente per l'effetto della protesta fissata per il prossimo 13 maggio nella centralissima piazza 20 Settembre. La mancanza di medici in ospedale ha ridotto a lumicino il servizio di ematologia con il solo medico che per 15 giorni erogherà il servizio per una sola volta alla settimana. Non se la passano meglio l'oncologia, il centro trasfusionale, l'oculistica, che resta senza materiali per operazioni di cataratta. Pronto soccorso con un solo medico per turno. Nonostante gli sforzi degli operatori, una coppia di anziani l'altro giorno, dopo sei ore di attesa, ha cambiato nosocomio, si è recata nel vicino presidio di Popoli. Medici carenti anche per la visita endocrinologica, gastroenterologica e un Doppler. In alcuni casi bisogna attendere fino a 33 mesi sul territorio. La situazione non è migliore. La carenza di pediatri ha disorientato 1.400 famiglie, mentre decine di bambini sono rimasti senza terapie per rivenir meno di psicoterapeuti nel centro di neuropsichiatria infantile. Investimenti servono sulle risorse umane e sulle strumentazioni. Diversamente le efficienti strutture si trasformano in scatole vuote. Nel gelo di 48 ore la sanità torna ad essere sulla bocca di tutti, anche di chi transitando in Viale Mazzini volgeva lo sguardo dall'altra parte dell'ospedale. La speranza è che i riflettori non si spengano, anche per questo il Tribunale per i diritti del malato, con la sua coordinatrice Katia Puglielli, sta pianificando la manifestazione territoriale.